La seconda edizione del TG6 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 Ci sono inchieste in corso, si limita a rivelare il questore. Per quanto riguarda l'attività di contrasto a quelle infiltrazioni della criminalità mafiosa, la guardia è sempre alta e le indagini, ci sono indagini in corso e quindi che sono coordinate dall'autorità giudiziaria, più di questo non vi posso dire. Inaugurati i nuovi laboratori e cucine dell'alberghiero De Cecco di Pescara, la presenza del sottosegretario all'istruzione Faraone e al presidente della regione D'Alfonso. Inaugurati questa mattina nella storica sede di Via Tirino i nuovi laboratori cucina dell'istituto alberghiero De Cecco di Pescara. Per l'occasione sono intervenuti fra gli altri il sottosegretario all'istruzione Davide Faraone, il presidente della regione Luciano D'Alfonso ed il presidente della provincia di Pescara Antonio Di Marco. I graditi ospiti sono stati ricevuti dal dirigente scolastico Alessandra Di Pietro che ha offerto una colazione presso la sala del De Cecco, colazione preparata proprio dagli studenti nei nuovi laboratori inaugurati questa mattina. La nostra presenza è una presenza che vuole anche marcare un impegno da parte del governo nazionale per l'edilizia scolastica. Non può accadere che chi va a scuola per studiare, per apprendere, per costruire socializzazione deve rischiare la vita come è accaduto qui, come accade purtroppo troppe volte in questo paese. Se noi stiamo investendo tantissimo in inizia scolastica, quasi 4 miliardi di euro, un investimento mai visto, stiamo facendo rapidamente anche rispetto ai lavori che si devono realizzare grazie alle regioni. L'Abruzzo è una delle regioni capofile grazie ai comuni. Noi sappiamo che dalla scuola ci viene una popolazione straordinariamente interessata al futuro, qual è quella degli studenti che Cuba pesa 180 mila persone. Dobbiamo allora rendere sicuri gli ambienti di frequentazione, di lavoro e di educazione e formazione che sono appunto gli spazi dell'edilizia scolastica e dell'architettura scolastica, come dice l'onorevole Faraone. E poi dobbiamo legare di più il mondo dell'impresa al mondo dell'educazione e della formazione, facendo in modo che per tutti ci siano occasioni di alternanza scuola-lavoro. Professoressa Di Pietro, i nuovi laboratori dell'alberghiero di Pescara oggi sono realtà? Sono dei laboratori moderni, sono dei laboratori funzionali a pieno regime al 100%. Sono tre laboratori di cucina, un laboratorio virtuale, una cucina convegno, tre sale bar. La provincia ha destinato una somma di circa 80 mila euro per questa riqualificazione globale dei nostri laboratori, che sono il punto di forza del nostro istituto. Sono cioè gli strumenti che ci permettono di fornire ai nostri giovani una formazione veramente di eccellenza, di alta qualità. E' ovvio che noi dobbiamo fare ancora altro, cioè rimettere a disposizione gli spazi che sono stati evacuati dopo il crollo dell'anno scorso, e questo lo stiamo per fare con la cantierizzazione delle opere. Io sono fiducioso, abbiamo una preside molto convinta del lavoro che stiamo facendo in sinergia, e sicuramente daremo le risposte che tutti si aspettano. Approvata oggi in quinta commissione del Consiglio regionale, una risoluzione che intende impedire che la teoria del gender venga insegnata nelle scuole abruzzesi. Filippo Tronca. No all'insegnamento della teoria gender nelle scuole abruzzesi. Lo dice una risoluzione con primo firmatario Paolo Gatti di Forza Italia, approvata a larghissima maggioranza oggi in quinta commissione regionale. Unico voto contrario quello del Movimento 5 Stelle. La risoluzione impegna il Presidente della Regione a sottoscrivere un apposito protocollo d'intesa con l'ufficio scolastico regionale per sancire questo divieto. Termine controverso, quello di teoria gender, che secondo una delle definizioni ha come nucleo fondante la non esistenza di una differenza biologica tra uomini e donne, determinata da fattori scritti nel corpo, ma è frutto di una scelta, di un fattore culturale. Per il mondo cattolico un'aperta propaganda a favore dell'omosessualità. Nessun intento discriminatorio nei confronti degli omosessuali, tiene però a precisare Gatti. Quello che si sottolinea è che tale teoria non ha senso farla diventare materia di studio a scuola, a tutela giunge della famiglia naturale e della serenità dei nostri ragazzi. Credo che sia una risoluzione corretta con la quale impegniamo il Governo regionale a stipulare un protocollo d'intesa con l'ufficio scolastico regionale e definire il fatto che l'insegnamento delle teorie gender nelle scuole abruzzesi non sia un bisogno educativo. Noi siamo per la libertà educativa, siamo per il rispetto di tutti, però non è un bisogno educativo andare dai bambini di 5, 6, 8, 10 anni a raccontare le teorie gender. Noi riteniamo che i ragazzi debbano crescere tranquilli, sereni, con l'educazione della loro famiglia, della scuola. Poi quando saranno grandi faranno le loro valutazioni nel rispetto di tutti. La discriminazione a leggere il testo della risoluzione c'è come ribatte Gianluca Ranieri del Movimento 5 Stelle, ma la contrarietà è solo sulla forma, non sulla sostanza, perché anche i grillini abruzzesi non ritengono opportuno che certi contenuti vengano insegnati a scuola. Noi siamo sostanzialmente concordi con quanto dice il dispositivo della risoluzione. Non siamo completamente d'accordo perché troviamo un po' forviante quelle che sono le premesse. Tra l'altro noi stiamo presentando in Parlamento, proprio in questo momento, una legge che prevede in sostanza la libertà di educazione nelle scuole e la possibilità per i bambini di essere formati sia all'affettività che alla sessualità. Tuttavia non votiamo questa risoluzione, sia perché non è questa la sede per determinare cosa si insegna o cosa non si insegna nelle scuole, che è una faccenda che attiene alla legislazione nazionale. Si terrà giovedì 28 gennaio a Pescara la delegazione Castellamare in Viale Bovio. L'inchiesta pubblica indetta dal Comitato di coordinamento regionale della Via nel rispetto delle competenze fissate dal decreto legislativo 152 del 2006. Si tratta di una delle prime esperienze in Italia in materia di consultazione pubblica per la valutazione ambientale. Verranno illustrati gli aspetti tecnici del progetto del metanodotto. Al confronto pubblico saranno presenti il Presidente del Comitato Via e Direttore Generale della Regione Cristina Gerardis, il responsabile del servizio Domenico Longhi e tutti i componenti del Comitato Via. Sono stati invitati inoltre a partecipare tutti i sindaci dei comuni interessati. E dopo 13 giorni di protesta sotto la sede del comune di Pescara, gli interinali di Attiva sono al lavoro per organizzare una grande manifestazione in città. Vediamo. Manolo Da Silva, 13 giorni di sit-in di protesta qui sotto il comune di Pescara. Da quel sabato cosa è cambiato e se è cambiato qualcosa? Nel frattempo non è cambiato niente, sono 13 giorni che siamo qui, siamo partiti col caldo, adesso ci ritroviamo alla ghiaccio, siamo sempre nella stessa situazione, ovvero stiamo ancora aspettando questa benedetta lettera dei corti dei conti che parta. Stamattina ci sono i legali dell'Attiva, dovrebbe partire stamattina, deve partire stamattina, perché abbiamo scritto anche sullo stricione adesso la pazienza è finita. Adesso basta cordialità, basta scherzi e basta battute. È il momento di stringere un attimo i tempi, perché sì è vero che siamo qui per scelta, ma anche un po' per forza se vogliamo. C'è stato chi ci ha portato a questa situazione, a questa baraccopola improvvisata. 13 giorni e da qualche notte state qui con temperature sotto zero, anche una grande sofferenza per voi e per le vostre famiglie. Sì, soprattutto per le nostre famiglie, anche se comunque sono abituate a stare la notte senza di noi, così come noi siamo abituati a lavorare al freddo, al gelo, sotto la pioggia. In previsione ci sarebbe un corteo, una manifestazione di protesta che state organizzando per i prossimi giorni? Sì, ne stiamo discutendo, stiamo preparando i dettagli, poi quando ci sarà l'ufficialità ve lo diremo. Cerchiamo di coinvolgere anche altre realtà, non solo noi. Cerchiamo di coinvolgere tutto il mondo del precariato in Abruzzo. Al Comune di Teramo è stato illustrato questa mattina il protocollo d'intesa per la diffusione della cultura della donazione di organi e tessuti. Vediamo. Ci sono circa 150 persone che aspettano un rene in Abruzzo e quindi vuol dire che fanno dialisi e fare dialisi significa stare tre giorni alla settimana per quattro ore legati ad una macchina e tutto questo può essere risolto con il trapianto di rene. Altre persone invece sono affette da patologie cardiache o epatiche o addirittura respiratorie, come il polmone. Molti bambini con la fibrosicistica non arriveranno a un'età adolescenziale se non ricevono un polmone. Tutti questi pazienti hanno una speranza di vita, cioè di continuare a vivere solo se arriverà un organo che funzioni, quindi un trapianto. Con la giornata di oggi parte concretamente il progetto che è stato annunciato qualche mese fa ed è stato con un protocollo d'intesa sottoscritto da tutte le parti attrici che ci daranno una mano per raggiungere questo obiettivo. La donazione organi è importantissima, è un progetto di inconmensurabile valore e si potrà attuare tramite l'adesione che il cittadino vorrà dare nel momento del rinnovo della carta d'identità, purché maggiorenne si viene all'anagrafe, il cittadino esprime la propria volontà di adesione oppure il diniego, potrà essere apposto sulla carta d'identità ma non visivamente, verrà posto nella carta d'identità che comunque il comune ha come copia e verrà poi trasmesso al centro nazionale trapianti che racchiuderà queste persone che hanno aderito a questo progetto in un elenco e che sarà messo a disposizione di quanti ne avranno bisogno. Quindi il progetto scelto in comune significa dare la possibilità al cittadino di scegliere per se stesso, la volontà ad adonare i propri organi per dare e continuare a dare speranza a questi pazienti e questo può essere fatto non al momento della morte, che è un momento delicatissimo, ma può essere fatto nel momento in cui noi possiamo, siamo in grado di informarci, di studiare bene la situazione, di essere praticamente informati e dare un consenso, un assenso importante. Spostiamo all'Aquila, il decreto del ministro dei beni e delle attività culturali Dario Franceschini prevede gli accorpamenti, a farne le spese potrebbe essere proprio la sede aquilana e l'Aquila non ci sta e fa la voce grossa. Daniela Rosone. Potrebbe esserci a breve un ennesimo scippo ai danni della città dell'Aquila. Potrebbe essere chieti la sede abruzzese della nuova sovrintendenza archeologica, belle arti e paesaggio che nascerà a stretto giro di boa con un decreto che sarà firmato dal ministro Dario Franceschini con l'obiettivo di portare avanti la riforma del MIBACT già iniziata da un po'. Potrebbe, ancora non è, ma è chiaro che le reazioni stanno iniziando a maturare. Il decreto in questione prevede infatti la fusione in un unico corpo delle sovrintendenze archeologiche di belle arti e paesaggistiche, dunque la sede aquilana dovrebbe accorparsi con l'archeologica di Chieti. L'allarme arriva dal Vezio Sfarra della Cisla che annuncia che nell'allegato al decreto c'è scritto che la nuova sede sarà a Chieti, mentre nel decreto stesso c'è scritto che l'Aquila è la città individuata come sede. Contraddizione che per evitare il peggio andrà chiarita ad ogni costo e prima possibile per non far avere all'Aquila altri scippi. All'Aquila resterebbe infatti solo la sovrintendenza unica archeologica artistica e paesaggistica per l'Aquila e per i comuni del cratere, creata ad hoc questa struttura dal ministro Franceschini che però esaurirebbe le sue funzioni con la fine della ricostruzione dei cantieri nell'Aquilano. Le reazioni politiche ovviamente non si sono fatte attendere, i politici pronti almeno a parole a fare le barricate. Winter e Summer School, questi due nuovi servizi messi a disposizione, rivolti agli studenti, a disposizione del Val Vibrata College di Corropoli nell'ambito del progetto accoglienza. Preside, parliamo della vostra scuola e anche di due particolari servizi che voi portate avanti, si parla della Winter e della Summer School, che sono rivolti ai ragazzi della terza media. Noi proponiamo ai ragazzi di terza media una formazione di matematica che deve essere propedeutica allo studio della matematica nel liceo e per latino. Latino perché? Perché è uno strumento importantissimo, oserei dire fondamentale, per una conoscenza reale della lingua italiana. Per i ragazzi della terza media il resto lo fa il fascino dell'aeronautica, del volo, della divisa. La vostra è una scuola, tra virgolette, particolare che offre una preparazione che nessuna scuola in Abruzzo è in grado di offrire. La nostra è una scuola che nasce con questa vocazione, quella di proporre un approfondimento nell'aeronautico, nel mondo aeronautico a tutti i livelli e questa caratterizzazione rimane ed è certamente un elemento di attrazione. il resto, la serietà, l'attenzione alle regole, gli ottimi docenti, anche l'aggiornamento costante e continuo che noi facciamo dei nostri laboratori scientifici, i nostri laboratori di simulatore di volo e torre di controllo sono aggiornati anno per anno e sono all'avanguardia. Noi ci auguriamo che continui il nostro percorso in una condizione di serenità ed è giusto che questo sia garantito a tutti i livelli e noi pensiamo di poter svolgere, di continuare a svolgere quel servizio molto importante che finora, da ben dieci anni, la nostra scuola sta svolgendo. E tra gli appuntamenti, presentata oggi a Palazzo di Città la 61esima edizione del Carnevale d'Abruzzo di Francavilla uno degli appuntamenti più antichi d'Abruzzo e d'Italia, diverse le novità quest'anno in calendario, vediamo quali. Tre giornate a tema, il 7, il 9 e il 13 febbraio con rispettivamente il Carnevale della Risata ospite il comico Dado, quello dei bambini con lo spettacolo teatrale Il Mago di Oz interpretato dall'attrice dei Cesaroni Nicola Olivieri e infine il Carnevale della Musica con la performance della Balkan Street Band e poi i tradizionali carri allegorici, 5 capitanati dal re Patanello. Questo è il 61esimo Carnevale d'Abruzzo di Francavilla che avrà anche un prologo il 30 di gennaio con l'inaugurazione della mostra internazionale Bozzetti d'arte per un carro allegorico aperta fino al 28 di febbraio. E' praticamente la seconda edizione, l'anno scorso abbiamo ottenuto questa prima edizione sono stati premiati 4 bozzetti che saranno rappresentati quest'anno su 4 carri allegorici. Abbiamo la cooperazione sicuramente di eccellenza del territorio, abbiamo un direttore artistico che si è occupato e si sta occupando della realizzazione dei carri allegorici, toni miccoli. Abbiamo la collaborazione di un direttore che si occuperà delle coreografie, Merico Di Francesco e abbiamo quest'anno anche la collaborazione di un consulente che si occuperà dello spettacolo di queste sfidate che è il maestro, il compositore Davide Cavuti. Possiamo dire che il Carnevale è proprio nel DNA di Francavilla, il Carnevale d'Abruzzo, siamo giunti alla 61esima edizione, è una di quelle manifestazioni che ci fanno conoscere molto oltre i confini regionali perché puntualmente quando c'è il Carnevale d'Abruzzo vengono turisti da tutte le parti d'Italia. I biglietti d'ingresso avranno il costo di 5 euro ed è previsto l'ingresso gratuito per under 13 disabili. Filastrocca scende sale, Patanello scende giù al mare. Cosa ci va a fare se non sa nuotare? Aspetta il Carnevale! E ora passiamo alla pagina sportiva. Tra mercato e campionato in casa Biancazzurra si lavora senza sosta, la squadra prepara la gara di Perugia, la società intanto lavora per rafforzare l'organico. Fra i nomi nuovi per la difesa ci sono quelli di Marchese e Stendardo. Andrea Costantini. Ci sono state diverse voci di mercato che ti hanno interessato con tante squadre magari di Lega Pro che volevano le tue prestazioni. Quale sarà il tuo destino? Con il tuo procuratore cosa state dicendo? No, soprattutto parla a lui diciamo perché io non mi interesso, faccio fare a lui. Comunque sia, come ho detto, se la società lo ritiene opportuno io sono contento di rimanere e non ho nessun problema. Ho sentito prima che ti ispiri molto a Pazzini e per il fatto che è un tesserato del Verona, pure lui? No, perché è stato sempre il mio idolo fin da piccolo e quindi il mio modo di giocare mi rispecchio molto in lui. Senti, hai tanti compagni di reparto molto importanti, crescere alla loro ombra fa comunque bene perché si apprende tanto. Sì, 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 assolutamente. Io diciamo che rubo con gli occhi adesso, quindi vedo molto anche in allenamento cosa fanno gli altri, dalla Padula a Caprari, a Andrea Cocco, insomma tutti quanti. Per me è un onore insomma allenarmi con loro e quindi cerco di fare ciò che fanno loro. Terzo posto, cinque vittorie consecutive ma la voglia di non fermarsi? No, assolutamente, adesso non ci possiamo fermare. È iniziato bene il 2016, come era finito bene il 2015 e quindi cerchiamo di continuare su questa strada e arrivare il più lontano possibile. I rossoneri preparano la sfida di Ascoli a San Giovanni Teatino a causa della neve che ha colpito la Frentania, ma a tenere banco è ancora l'addio di Mammarella. Ascoltiamo. L'Ascoli viene da una sconfitta e sicuramente vorrà riprendere il cammino e vorrà vincere lo scontro diretto, però sta a noi magari a rendergli la vita difficile perché la partita è importante anche per noi. Che Lanciano si presenta ad Ascoli, qual è la condizione generale della squadra? La condizione è quella di una squadra che comunque arriva da una vittoria, una squadra che in questo momento non deve fare altro che pensare solo ed esclusivamente al campo. Ripeto, l'obiettivo lì dove due settimane fa ci siamo andati già tutti per spacciati, quello che vorremmo è che fino all'ultima di campionato riuscissimo a lottare, a rendere la vita cara a tutti quanti, perché no pensare e cercare di ottenere quell'obiettivo importantissimo che può essere quella della salvezza. Nella vita niente è impossibile. La sua squadra continua però a perdere pezzi importanti, ieri c'è stato l'addio di Mammarella, ha detto l'ex capitano del Lanciano che è stata però una sua scelta. Va rispettato la scelta di Carlo, va ringraziato per quello che ha dato in questi 8 anni qui a Lanciano, è chiaro che adesso Carlo è giocato per un'altra squadra, quindi io devo pensare ai giocatori che ho a disposizione, in questo momento molto probabilmente in quel ruolo giocherà Di Matteo, quindi è un peccato perché abbia perso un gran giocatore ma abbia perso un grandissimo uomo, però ripeto qualsiasi scelta abbiamo detto che lui avesse fatto andava rispettata, quindi va rispettata, poi le motivazioni sinceramente dovete parlarne con loro, con i diretti interessati. Cosa manca adesso parlando di mercato alla sua squadra? Numericamente sono andati via in centrocampisti dove ne è arrivato uno solo, in questo momento è andato via un terzino, quindi c'è da operare perché numericamente in questo momento siamo in difficoltà, ma la società sa quello che deve fare, quindi è vero che c'è tempo per farlo, però è anche vero che è un mese importantissimo, queste partite sono fondamentali, quindi con la stessa velocità con cui sono state le partenze mi auguro che ci siano anche delle entrate. Andiamo ora in Lega Pro, Biancorossi concentrati nella settimana che porta alla gara di Pisa, intanto sul mercato la società lavora ad uno scambio con il Como, Scapuzzi, Le Noci, il servizio. Non è un campionato facile, abbiamo affrontato due attacchi comunque molto forti e siamo riusciti a non prendere gol, quindi per noi è un punto di partenza da dover ricominciare. Penso a migliorare e spero di non essere un giocatore della Lega Pro per tutta la vita perché voglio fare il salto di qualità e perché credo di essere pronto per categorie superiori e credo di potermelo andarmela a giocare con squadre di Serie B, diciamo. Però io resto qui con la testa e voglio migliorare il più possibile perché il mister mi può far migliorare ancora di più per essere ancora più pronto quando verrà il momento. Sicuramente per Rotta che rimane perché io non mi sento di andare via, mi sento un punto di forza per questa squadra, non sono mai voluto andare via perché per me questo è come una famiglia, ho sposato il progetto all'inizio dell'anno quando magari molte persone sono andate via e quindi non credo sia giusto ora abbandonare la nave perché dobbiamo conquistare la salvezza il prima possibile e il termo deve farlo con per Rotta. Sicuramente sono molto forti, sono una squadra molto organizzata, poi non ci dimentichiamo che sono secondi in classifica, quindi noi non guardiamo mai la classifica però sappiamo le squadre più forti come Pisa a spalle quindi sicuramente dobbiamo stare molto attenti perché è una squadra molto forte e molto organizzata però come dico sempre non è che dobbiamo andare lì a chiuderci perché non è la nostra mentalità, noi dobbiamo fare la nostra partita come abbiamo fatto queste due o tre partite scorse e andarcela a giocare. Poi sicuramente quello che succede in campo, molti episodi, spero ci andranno a favore e cercheremo di vincere la partita. In attesa della sentenza sul calcio scommesse e della partita con l'Arezzo i rosso-blu possono sorridere per i difensori Maccarrone e Pesoli entrambi sulla via del recupero dagli infortuni muscolari. Gianmarco Menga Sospiro di sollievo in casa L'Aquila per il centrale difensivo Giordano Maccarrone lo strappo muscolare che lo aveva messo fuori gioco due settimane fa si sta pian piano ricucendo il giocatore si trova a Catania per terapie specifiche che stanno dando i loro frutti dalla prossima settimana inizierà a svolgere sedute di lavoro in piscina poi entro fine mese è atteso il rientro all'Aquila Maccarrone potrebbe così tornare a disposizione a tempo di record già per i primi giorni di febbraio i rosso-blu possono sorridere anche sul conto del neo arrivato Emanuele Pesoli l'ex difensore del Pescara si sottoporrà domani mattina ad una visita di controllo per valutare se il problema muscolare al polpaccio sia superato se dovesse avere esito positivo l'esperto difensore laziale potrebbe essere a disposizione del tecnico Carlo Perrone già dalla prossima settimana intanto sul fronte del mercato è tornato alla ribalta il nome del centrocampista classe 1995 Danilo Bulevardi del Pescara vecchio pallino del direttore sportivo dell'Aquila Calcio Alessandro Battisti sul giocatore che cerca maggior spazio volendo anche scendere di categoria in Lega Pro c'è però anche il Catanzaro Termina qui la seconda edizione del TG6 l'appuntamento con l'informazione ricordo torna questa sera alle ore 23 grazie per l'attenzione e buon proseguimento di serata grazie a tutti